Siamo arrivati alla fine dell'anno, siamo alla vigilia delle pantone sospirate vacanze. Credo che l'anno sia stato per alcuni aspetti un anno positivo, non fosse altro che per il fatto che abbiamo innovato nella nostra capacità di comunicazione attraverso il sito. Quindi auguri innanzitutto a tutti gli internauti. Che cosa augurare? Beh, certamente di liberare l'Italia dal governo Prodi. Può sembrare una banalità, ma credo che anche le ultime vicende abbiano fatto capire chiaramente che prima ci liberiamo del peggio del governo, della storia repubblicana migliore da più. E poi un augurio ad Alleanza Nazionale, l'augurio di essere sempre più protagonista nella battaglia politica, di farlo come stiamo facendo negli ultimi tempi, con chiarezza di idee e con programmi incisivi. L'augurio di ritrovare una sostanziale unità del centro-destra, che ovviamente però non si può basare soltanto sul generico appello al volersi bene, ma deve basarsi sulla volontà comune di costruire un progetto di governo per l'Italia e di realizzare ciò che gli italiani chiedono ad ogni anno di noi. In ogni caso, tanti tanti auguri per chi è in contatto con il nostro sito per vedere realizzato ciò che ha nel cuore, quale che sia quel desiderio.